nel settore della mobilità ma più nello specifico nel settore taxi quello che oggi sicuramente si può fare si deve fare si sta già facendo in realtà è andare a fare ottimizzazione di processi che possono portare il beneficio fondamentalmente alla clientela e quindi al servizio pubblico nello specifico laurea in computer science all'università la sapienza di roma da sempre segue i temi legati all'intelligenza artificiale e ai sistemi integrati attualmente è presidente dell'associazione block chain edu ed è ceo di cenza il un'azienda specializzata in pagamenti in servizi di pagamenti in bitcoin inoltre è anche founder e ceo di moviax una giovane azienda tecnologica che si concentra su soluzioni innovative legate al settore della mobilità e del trasporto pubblico tra i progetti più rilevanti ricordiamo it taxi appunto che nasce nel 2016 che raccoglie al proprio interno il network più ampio di taxi a livello italiano chi è lorenzo giustozzi e cosa ti ha spinto cosa ti ha portato a intraprendere questo percorso legato all'information technology al settore del digitale bella domanda chi è lorenzo giustozzi oggi diciamo si può dire che sono un imprenditore ok sono un imprenditore ma prima ancora che imprenditore sono una persona appassionata di tecnologia appassionata di come la tecnologia può impattare sul business può impattare sulla vita delle persone ma soprattutto su tutte quelle cose nuove che vengono inventate e che possono in qualche modo cambiare quello che ieri si faceva una certa maniera e dopo si potrà fare in maniera differente cosa mi ha portato in questa direzione evidente i miei studi insomma io inizio da studente di computer science come citato poco fa il percorso mio professionale quello che quello che mi ha insomma mostrato è stato come una passione puramente tecnologica ovvero però appassionarsi al bit a come funzionano le cose 9 al nome dell'azienda puramente tecnologico come invece piano piano quel tipo di curiosità che poi un po la chiave di tutta la mia vita professionale la curiosità mi ha portato invece a spostare un po l'asticella verso l'esterno e quindi se interrogarsi come questi bit come queste cose possono effettivamente avere un impatto insomma un po questa la chiave ok allora mi soffermo un attimo su su moviax e it taxi tutti nella nostra vita abbiamo preso almeno una volta un taxi però è sempre più comune oramai premotare i taxi attraverso l'app cosa che dire fino a qualche anno fa era impensabile it taxi come dicevi è sicuramente un app che ha avuto una diffusione importantissima la mia domanda è come nasce diciamo questa connessione questa intersezione tra la tecnologia il mondo dei taxi quando avete fondato insieme al presidente loreno bit a relli di radio taxi 35 70 come è nata diciamo questa questo matrimonio no se vogliamo professionale una bella storia secondo me questa qua perché diciamo come nasce tutto nasce it taxi nasce la pt taxi su visione del presidente bit a relli addirittura nel 2013 o 14 se non erro quando ancora le app si usavano poco quasi per nulla i telefoni non erano ancora così diffusi come oggi insomma abbiamo tutti in tasca lo siamo per qualsiasi cosa e lui si fece diciamo una domanda all'epoca e guardando questo digitale che evolveva e che cresceva questa per me aveva sempre di più l'idea delle persone si chiese ma noi che abbiamo solo il call center per chiamare il taxi ma perché non ci facciamo un app io all'epoca non esistevo cioè esistevo ma insomma avevamo due binari paralleli in altri luoghi esattamente facevo altro e quindi lui fu il primo a diciamo vedere l'opportunità di creare un'app per chiamare il taxi che era una cosa strana all'epoca c'era uber in america che faceva qualcosina e lui si diete questo obiettivo e fece una prima app il t taxi che fu lanciata sul mercato successivamente nel giugno del 2015 lì nasce poi il punto di contatto che diventa sia questo matrimonio come l'hai chiamato che in un certo senso si può si può chiamare in questa maniera ma diventa soprattutto la spinta per me come persona ad avviare una strada imprenditoriale e l'organizzata un hackathon organizzo un hackathon perché insomma insieme a code motion nello specifico anche con loro insomma c'è credito nei loro confronti decisero di aprire una sorta di caccia dei talenti ok perché volevano fortemente trovare delle persone che potessero sposare con loro questa visione di digitale sul mondo della mobilità e si sentivano un po forse abbandonati a loro stessi in quel momento insomma avevano bisogno di qualcuno che gli desse supporto fecero questo hackathon che io vinsi con altri ragazzi e da lì si avviò questo rapporto che inizialmente fu un rapporto di consulenza davanti a fare delle cose io stavo all'università tutto pensavo fuorché sarei finito qui dove sto oggi non qui fisicamente ma qui da un punto di vista di panorama professionale e da lì diciamo un passo dopo passo il rapporto è passato da parliamoci confrontiamo facciamo qualche così insieme a qualcosa di più solito e quindi arrivò al momento poi in cui nel 2016 17 18 19 insomma si avvia questo percorso di trasformazione del mondo taxi guidato ovviamente da lorano bittarelli che è quello che ci ha messo la testa al cuore ci ha messo anche insomma l'economia per poter fare questo tipo di di opera in qualche modo e lato mio per rispondere alle sue esigenze mi sono attrezzato ho trovato un gruppo di persone ragazzi che studiavano con me alcuni altri altri che non studiavano con me insomma con i quali avevo già un rapporto extra professionale extra lavorativo c'era stima e ci prendemmo questo carico perché comunque costruimmo un'azienda inizialmente per rispondere alla necessità di bittarelli 35 70 di tt taxi perché poi è una scatola un po più vasta che ci portò a poi vincere questa sfida perché ad oggi come deciduti tt taxi è leader del settore in italia tutti quelli che hanno preso un taxi tendenzialmente hanno usato i tt taxi nella loro vita ma non per niente perché c'è una copertura di mercato una copertura territoriale che ti porta oggi a usare tt taxi insomma in quante città è presente se è presente in oltre 50 città ok siamo diciamo a metà tra 50 e 100 e ne escono di tutti i giorni di città nuove quindi anche difficile un po tenere il conto insomma però come dimensionamento siamo siamo su questi livelli parliamo di oltre 10.000 taxi su tutta italia divise ovviamente da tutte queste città che hanno diciamo strutture locali come c'è il 35 70 su roma che sui 3700 taxi ci sono i taxi su milano su napoli c'era e ormai parliamo di un sistema che immagina termine tecnico macina forse qualche milione di corsi al mese decine di milioni di corsi di corse l'anno quindi anche un sistema insomma che deve rispondere tra struttura molto solida la solida la struttura pesante dietro il sistema è stato disegnato pensate adesso viene gestito e manutenuto sia a livello di sistema informatico ma anche a livello proprio di prodotto in termini di come fare determinate cose da un team di oltre 20 ingegneri tutti italiani tutti di movex che lavorano tutto il giorno e tutti i giorni fianco a fianco con la struttura operativa e organizzativa di t taxi che è quella che ovviamente dalla direzione mostra un po la luce dove andare ok allora ti faccio una domanda diciamo una chiave un pochino più ampia quando si parla di innovazione inevitabilmente oggi diciamo uno dei temi che è entrato in diritto nel dibattito se vogliamo mediatico ma anche mainstream è l'intelligenza artificiale ora l'intelligenza artificiale può essere declinata in diversi ambiti in diversi in diversi settori sicuramente quello della mobilità urbana è un ambito particolare perché ci sono delle delle complessità le nostre grandi città sono molto spesso congestionate che di milano di roma adesso in vista del del giubileo 20 25 sarà una grande sfida ora secondo te dal tuo punto di vista anche sulla base dell'esperienza che hai accumulato in questi ultimi anni l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel settore appunto della mobilità urbana e quindi il trasporto del cittadino che che prospettiva cioè come come vedi che che tipo di intervento può avere apporto può avere l'intelligenza artificiale all'interno di questo sistema allora l'intelligenza artificiale diciamo se ne può parlare sotto vari profili può essere osservata vari spicoli anche in termini proprio temporali quindi magari concentriamoci sull'intelligenza artificiale oggi senza guardare troppo tra dieci anni la guida autonoma insomma tutta una serie di cose che arriveranno probabilmente ma che oggi ancora non sono troppo tangibili quindi forse sono anche meno interessanti rispetto a quando lo studiavo in università l'intelligenza artificiale oltre dieci anni fa oggi le cose sono cambiate perché prima quando parlavi di questo tipo di tecnologia parlavi di ricerca applicata parlavi di ricerca e sviluppo cioè chiaramente aziende che magari ci lavorano da vent'anni e quindi avevano già qualcosa in uso oggi è diventato un po' commodity è qualcosa che è più pronta e più matura e la puoi usare davvero per cambiare delle cose per portare degli impatti e nel settore della mobilità ma più nello specifico nel settore taxi quello che oggi sicuramente si può fare si deve fare si sta già facendo in realtà è andare a fare ottimizzazione di processi che possono portare beneficio fondamentalmente alla clientela e quindi al servizio pubblico nello specifico oggi se parliamo di applicazioni cose che stiamo tra l'altro anche facendo quindi anticipiamo anche qualcosina diciamo pre lancio e l'intelligenza artificiale può essere usata fortemente per fare predizione dei prezzi il prezzo è un tema importante quando si prende un taxi spesso c'è il dubbio del quanto mi costerà lo prendono, lo prendono, lo posso permettere, mi fregherà il tassista perché qua so quelle domande che insomma si prende con tutti chiaramente il taxi è correttissimo su queste cose e sensibilizza se fosse necessario il tassista ah sì, a garanzia probabilmente certo, assolutamente, garanzia di entrambi in realtà sia del tassista che del cliente quindi per questo tipo di use case è uno strumento molto importante può aiutare nella predizione della domanda più, detto in maniera, diciamo in parla un po' più povere aiutare, guidare il tassista su come muoversi dentro la città prevedendo i picchi di richieste dei clienti in momenti specifici del giorno, insomma della notte o comunque in periodi osservabili aiuta il cliente ad avvicinarsi al tassista e quindi permette al cliente di trovare più velocemente il tassista e di conseguenza anche di fare di meno quindi questo è un altro tipo di cosa che può essere molto molto utile in questo settore in ultimo oggi, diciamo, per quanto si usa principalmente le app per chiamare i taxi c'è ancora tanta clientela che utilizza il call center quindi che telefona per abitudine, per facilità, forse più per abitudine diciamo perché poi nella pratica può fare le stesse cose e anche su call center l'intelligenza artificiale può aiutare molto ed è una di quelle cose sulle quali stiamo lavorando per velocizzare la richiesta del taxi e per evitare magari lunghe attese date dal fatto che se ci sono migliaia di clienti che stanno telefonando e comunque le strutture di radio taxi sono importanti anche da un punto di vista numerico del personale però può capitare che ti trovi in attesa 2, 3, 5, a volte 10 minuti quindi anche su questo, soprattutto con tutto oggi il filone degli LLM i large language model che si sono, diciamo, ormai sono diventati il chat GPT per internet il chat GPT di turno, esattamente, grazie e questo tipo di motori conversazionali basati sull'intelligenza artificiale possono dare tanto anche su questo punto di vista speriamo, cioè sono convinto che, voglio dire, sicuramente sarà uno stravolgimento in positivo a mio avviso allora, allarghiamo ulteriormente lo sguardo tu sei un imprenditore, un giovane imprenditore specialmente appunto nel contesto nostro nazionale sei particolarmente giovane oramai, diciamo, le società per le quali tu sei CEO, sei amministratore delegato non possono essere considerate delle start-up perché sono, diciamo, già più solide però hai dovuto passare certi passaggi come dire, scusa il gioco di parole ci sono stati degli stadi che hai dovuto affrontare dal punto di vista anche, diciamo, sia degli investimenti sia dal punto di vista anche burocratico ora, qual è il tuo punto di vista come imprenditore rispetto all'ecosistema delle start-up in Italia? cioè, pensi che, diciamo, c'è ancora tanto da fare se hai avuto degli impedimenti o, come dire, sei positivo sei confidente che in realtà stiamo andando nella giusta direzione? è una bella domanda questa allora magari da un primo punto di vista sul mondo start-up per quello che è la mia esperienza più che altro con Censide e non vado troppo oltre perché poi anche la mia vita professionale ha più, magari, mi ha dato più spunti sul, diciamo, fare impresa un po' più in maniera tradizionale ok? ora, il mondo delle start-up è sicuramente un mondo dove in Italia non si è mai investito abbastanza ok? ed è un mondo in cui non c'è una cultura, diciamo, ancora abbastanza sviluppata questo perché fare start-up vuol dire sostanzialmente dare soldi e supporto operativo o supporto anche di mercato a persone che hanno delle buone idee, delle ottime idee c'hanno solo bisogno magari di qualcuno che li guida un pochino e che gli dà gli strumenti per portarle, diciamo, al mercato in Italia questo tipo di cultura non si sente molto per quanto ovviamente gli sono dei vestiti, degli acceleratori insomma ci sono tante strutture deputate a questo tipo di, diciamo, di azioni e non voglio parlare del perché non funzionano voglio più che altro osservare i risultati che è quello che si vede più palesemente per tutti in Italia non si fanno start-up in Italia non ci sono grossissimi risultati ovviamente poi ci sono dei casi, insomma, di tutto rispetto che escono però anche praticamente eclatanti assolutamente però se guardiamo rispetto all'estero non credo che si possa dire che abbiamo una filiera che funzioni molto bene e questo sicuramente è un dato, diciamo non siamo statisticamente rilevanti e non credo che sia perché ci mancano le idee perché in Italia tendenzialmente sono persone abbastanza fantasiosi e che ci hanno voglia di fare tanto sul invece complessità imprenditoriali in generale per mettere su un'azienda fatta salva la premessa che io me la sono proprio cercata perché sono uscito dall'università e avevo fatto computer science e ho deciso di aprire prima un'azienda poi un'altra quindi ho sbattuto proprio la testa contro cosa volesse dire aprire un'azienda anche da un punto di vista di complessità burocratiche e dico come la sono cercata perché chiaramente insomma ho avuto un po' di inventarmi la ruota poi certo uno si attrezza nel percorso però di complessità se ne sono affrontate tante e ancora se ne stiamo affrontando in realtà far scalare un'azienda, generalizzarla sia da un punto di vista non solo di compliance ma anche proprio di meccaniche interne che ti portano a poter crescere in maniera sana e dall'altra parte dico la cosa banale che probabilmente tutti quelli che sono un po' più grandi di me neanche dicono più perché ci sono talmente abituati che non ne vale più la pena però di certo in Italia non ti incentivano troppo a fare impresa perché abbiamo un livello di imposizione fiscale che è tremendo tremendo costa tanto a un'impresa costa tanto a chi lavora con te ai dipendenti perché insomma ti levano tante risorse che potresti investire per far crescere per diciamo creare anche un po' di gettito e quindi questo è un po' demotivante da un certo punto di vista dall'altro lato forse non ho ancora sofferto abbastanza per poter dire che non ne vale la pena perché ancora c'ho voglia insomma io c'ho voglia ma anche gli altri miei soci insomma non sono da solo e stiamo ancora cercando di fare in modo che si cresca abbastanza da non preoccuparsi eccessivamente di questo punto di certo non ti aiutano a crescere più velocemente vabbè chi la dura la vince cerchiamo di avere anche in questo caso diciamo una visione estremamente positiva allora andiamo verso diciamo la fine della nostra chiacchierata però prima di concluderla innanzitutto volevo chiederti il allora tu sei presidente di questa associazione blockchain edu sono abbastanza curioso in che cosa consiste questo progetto e che tipo di coinvolgimento hai tu ok allora premesso abbiamo fatto dieci anni da poco questa quindi tanti auguri ci facciamo ci facciamo una cosa lì è stata in realtà la prima esperienza mia all'esterno perché blockchain edu nasce dieci anni fa che ero ancora all'università e nasce come gruppo di nerd interessati al mondo delle criptovalute di bitcoin perché all'epoca c'era tutto bitcoin e che sentivano la mancanza di un ecosistema di un network di persone con il medesimo interesse con il quale potersi confrontare quindi nasce semplicemente come risposta a un problema il problema era siamo in treni parliamo tra di noi cerchiamo di allargare un po' il diciamo la sfera di comunicazione lo facemmo non su invenzione nostra ma copiamo un network che si era creato in alcune università americane all'epoca si chiamava il cryptocurrency il college cryptocurrency network poi evolvete col nome insomma verso blockchain che lavorano un po' più di uso comune e quindi niente di base è stato è stato dico è stato perché negli ultimi due anni abbiamo un pochino rallentato tutti perché era un progetto universitario diciamo è un'associazione che ha come scopo quella di aggregare universitari inteso come studenti, professori e ricercatori siamo arrivati a circa 1100, 1200 soci quindi insomma pure un bel impatto da questo punto di vista e dopo aver fatto tanta divulgazione ne tanti eventi anche di confronto con le istituzioni perché oggi diciamo le istituzioni parlano ne parlano dicendo mettiamo il 42% di tassazione e stendiamo un velo vietoso però all'epoca fino a 5-6 anni fa le istituzioni erano ancora molto ignoranti nel senso buono del termine cioè non conoscevano questo tipo di fenomeno e noi abbiamo passato tanto tempo a spiegarvi a fare incontri con vari soggetti, vari governi abbiamo cercato di dargli un po' un punto di vista terzo quindi non da impresa, non da consumatore da un punto di vista tecnico di esperienza tecnica non solo tecnica informatica ma anche tecnica lato giurisprudenziale lato insomma economista cioè ci stavano tanti soggetti coinvolti nell'associazione che privano un po' tutte quelle sfere che potevano essere poi quelle esperte per dare un parere di questo tipo ed era una bellissima esperienza è stata una bellissima esperienza si sta un po' spegnendo la luce però diciamo che tu comunque sei credi sempre tantissimo nelle tecnologie diciamo sottostante cioè blockchain che comunque prescinde dal bitcoin quindi potrebbe essere diciamo anche applicabile in altri contesti si diciamo che questo è sempre sfidante come tema perché dopo più di dieci anni che esiste questo tipo di tecnologia ad oggi quello che vediamo che sta funzionando e che sta portando un cambiamento è tutto nel mondo finanziario cioè il fatto di creare delle valute decentralizzate delle valute non sotto il controllo di anticentrali è qualcosa che sta funzionando e che ha creato ecosistemi nuovi ha creato il mondo c'è tutto il mondo della DeFi ci stanno tantissime imprese che oggi lavorano in questo settore dagli exchange a Chainside che fa diciamo si occupa di pagamenti quindi hanno proprio cambiato un po' il modo in cui si vede l'economia a di ieri non so se era notizia ancora certificata che anche c'è Bricks hanno fatto Bricks Pay basato su blockchain insomma per tutto quello che è la parte finanziaria blockchain ha portato un cambiamento c'è stato proprio un ieri e un domani ha segnato proprio un momento di cambiamento rotale per tutti gli altri news case c'è ancora un po' di ricerca in corso il dato di fatto anche di esperienza diretta da quello che vediamo noi lavorando insomma a questo settore è che è molto molto utile per quanto concerne la certificazione la notarizzazione l'armonizzazione di rapporti tra più parti che possono parlare con una tecnologia che gli permette di fare un po' pattichere a notizia lunga insomma tu definisci un protocollo matematico che è quello che regolerai due rapporti dall'in poi è tutto pubblico ditabile e trasparente allora siamo arrivati diciamo a conclusione della nostra chiacchierata però come di prassi io prima di lasciare il mio ospite il mio partner di chiacchierata più che ospite lo lascio con una domanda che appunto sarei curioso di sapere se ti va di condividerlo appunto con tutti noi se c'è un contenuto espressione generica all'interno della quale io inserisco che può essere un libro un film un podcast una canzone qualsiasi cosa che in qualche maniera ha avuto un impatto positivo su di te sulla tua vita anche se no in maniera stravolgente però sicuramente che ti rimasso nel cuore ok allora diciamo mi collego a l'ultima parte del discorso questa su blockchain edule criptovalute quindi un po' quella mia vocazione in qualche modo a fare dissemination su questo argomento e quello che vede è che ancora oggi c'è ancora tanta gente che non sa bene di cosa si sta parlando e che non comprende il fenomeno bitcoin per quello che è magari ne vede solo l'impatto quello più più palese diciamo il frutto quello che si voglia più facilmente che è quello del risultato economico finanziario dietro bitcoin in realtà c'è davvero un cambiamento sociale epocale che avrà un impatto a lunghissimo termine almeno dal mio punto di vista e quindi un contenuto che forse può aiutare in questa direzione che consiglio a tutti diciamo di leggere è un libro che si chiama The Bitcoin Standard non è estremamente tecnico né diciamo non è troppo di alto livello né troppo di basso livello sufficientemente divulgativo sufficientemente divulgativo e offre soprattutto una prospettiva che ti accompagna fino a questo evento dell'invenzione del bitcoin e ti fa capire un po' l'impatto a lungo termine e soprattutto l'impatto sistemico quindi secondo me è un'altura interessante che se uno insomma vuole perdere investire qualche giorno può farlo e ti lascia qualcosa altrimenti ti lascia la comprensione di un fenomeno complesso ti ringrazio perché sicuramente rientrerà nelle mie letture allora grazie ancora per essere stato qui con noi grazie a voi ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito finora un grande saluto dall'Advocacy Hub di Milano arrivederci e alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti